E grazie alla gentilezza di Michelin per quest'ultima gara della stagione di Formula E possiamo anche accedere al Bosnian Ocean Club della Formula E dove come vedete il clima è tutto diverso è molto più, diciamo meno lavorativo ecco, noi di solito frequentiamo altri ambienti della Formula E però una volta tanto si può fare